Ciao a tutti, possiamo dire che la Terra è in pericolo, almeno per la sopravvivenza degli esseri umani. C'è un indicatore che pochi prendono in considerazione, ma in realtà è un indicatore che è molto utile, che è l'impronta ecologica. Che cos'è l'impronta ecologica? L'impronta ecologica rappresenta la quantità in percentuale di risorse che vengono consumate rispetto a quelle che la Terra è in grado di riprodurre. Quindi, con l'impronta ecologica 1, cosa significa? Significa che noi consumeremmo il 100% delle risorse riproducibili della Terra. E questo andrebbe al limite, ma andrebbe bene. È un po' come dire per chi fuma, una volta dicevano, se fumi 5 sigarette al giorno, poi non so se è vero, comunque si diceva che i polmoni riescono a eliminare, diciamo, i danni, a riparare i danni, ma se ne fumi di più, di 5, non si riparano più i danni e quindi inizia a intossicarti, inizia... questo è per fare un esempio, quindi non fumate perché comunque fumare fa male anche una sola sigaretta, però è per far capire il concetto in linea di principio. Allora, quindi vuol dire che con l'impronta ecologica 1 noi consumiamo esattamente quanto la Terra è in grado di produrre ogni anno. Il dato invece è che a livello mondiale, però poi dopo analizziamo bene questo dato, a livello mondiale siamo a circa 1,7%, cioè noi consumiamo il 170% circa delle risorse del pianeta, quindi il 100% è riproducibile, l'altro 70% non si produrrà più, quindi noi depauperiamo il pianeta, consumiamo ogni anno delle risorse che non ritorneranno mai più sulla Terra, perché non saranno più a disposizione, consumiamo di più di quanto la Terra è in grado di produrre ogni anno. Ma uno dice, vabbè, il 70% è tanto in più, eccetera, però ci sono dati ancora più allucinanti che negli Stati Uniti l'impronta ecologica è quasi 9. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tutti avessero il tenore di vita degli Stati Uniti e consumassero tutti gli abitanti del pianeta attualmente presenti, la quantità di energie e di risorse che consumano gli americani, servirebbero 9 pianeti come la Terra per soddisfare queste esigenze dell'essere umano. Quindi noi ci salviamo, diciamo così, siamo solo all'1,7, perché ci sono paesi con gli abitanti come, non so, il Burkina Faso, l'Africa, anche la Cina, ma il problema è che la Cina adesso sta salendo il tenore di vita. Dove erano, diciamo, dove sono in negativo, cioè consumano meno, quindi sono a 0,6, 0,5, 0,4, tutta l'Africa è al di sotto dell'1, ovviamente. Quindi loro, se vivessimo tutti come vivono gli africani, il pianeta avrebbe un sacco di risorse in più, sarebbe in positivo, e invece no. Il problema è che i cinesi piano piano si stanno, diciamo, iniziano a consumare energie pure loro e stanno aumentando molto rapidamente. In Cina il tenore di vita sta salendo rapidamente, quindi depauperano i cinesi e sono in tanti, si sta depauperando questo pianeta. Poi gli americani, appunto, sono veramente un cancro per questo pianeta. Possiamo dirlo, gli americani sono davvero un cancro per questo pianeta, ma le risorse che consumano sono una roba spropositata. E quindi, poi c'è un altro dato, che gli abitanti continuano sempre ad aumentare. Questo è con i 7 miliardi e mezzo che sono presenti attualmente sul pianeta. Se andiamo avanti così, nel 2050, credo, saremo 12 miliardi e mezzo, quindi questo, diciamo, questa impronta economica salirà a livelli inimmaginabili, quindi questo pianeta necessariamente finirà di darci le risorse. Quindi dobbiamo toglierci dalla testa. Chi ha dei figli, diciamo, credo che i figli, che ha dei figli piccoli adesso, avranno dei grossi problemi quando saranno grandi, perché non ci saranno più risorse, non ci saranno più risorse. Quindi ogni tanto si vedono quei film apocalittici, no, di guerre globali, eccetera, però veramente la prima risorsa che verrà a mancare sarà l'acqua e poi tutte le risorse energetiche verranno a mancare. Quindi per le generazioni future, diciamo, saranno chi ha figli piccoli adesso. Non vorrei essere al loro posto perché purtroppo saranno costretti a, diciamo, subire dei grossi contraccolpi, diciamo così. Ci sarà un'involuzione pazzesca, insomma. Quindi in questo pianeta siamo effettivamente un cancro per questo pianeta e lo stiamo completamente distruggendo. Comunque andate a vedere questo dato interessante, l'impronta ecologica. Bene, lasciate i commenti qua sotto, iscrivetevi al canale e condividete questo video. Ciao a tutti!